Prima errore contro Cocchia 1 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 non tenere le mani in baguio, tienila aperta fuori si impara! fuori non ti chiudi la libro si solo che per fare quell'attacco doveva essere troifield si 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 yes fratture maestri non è fallo se non è fallo anche quella che hai fatto con Facchini doppio palleggio Angelini punti Angelini punti punti grazie